ecco troppo di parole allora erano dei giorni che niente tipo qua al regno siamo pieni di covid no? come sempre e vabbè fatto sta che io vado in palestra vado al tirocinio a un certo punto esco da palestra io a giovedì avevo una cena con quelli del tirocinio esco da palestra a destra e vado a casa no eh si bravo vado a casa sai a due cazzoi a pioce la per un 15 marzo vabbè